Musica 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 Un'operazione interforze che ha avuto luogo ieri per stroncare il commercio non autorizzato sulla battiglia di sottomarina ha portato alla scoperta di un garage colmo di articoli destinati alla vendita, ubicato nella zona di San Felice. La struttura è nella disponibilità di un residente del luogo, il quale gestisce anche un parcheggio nei pressi della diga. L'azione congiunta della Polizia Locale di Chioggia e della Guardia di Finanza di Venezia e Chioggia, anche con l'ausilio di un elicottero delle Fiamme Gialle che ha volteggiato per buona parte della giornata, ha consentito il sequestro di migliaia di articoli, tra cui alcuni accessori con marchi contraffatti e quindi soggetti a specifica disciplina penale. Particolare attenzione, con una conseguente stretta nei controlli, intanto viene posta l'ipotetico abuso di licenze ottenute in maniera regolare che possono diventare appoggio per i banchetti improvvisati dai venditori illegali. Sempre nella mattinata di ieri intanto, forze di Polizia con oltre 10 effettivi in Borghese hanno perquisito uno straniero piuttosto attempato in Piazza Europa, a capolinea degli autobus extraurbani, e lo hanno invitato a salire nella vettura di servizio con loro. Intensa attività nel pomeriggio di ieri per il pronto soccorso dell'ospedale di Chioggia. Ben quattro volte le ambulanze sono uscite e rientrate a sirene spiegate per trasportare feriti in diverse situazioni di malessere più o meno gravi, compreso un codice rosso. La più seria riguarda un turista padovano che attorno alle ore 16 è caduto dalla diga di Caromang, riportando diverse fratture. L'uomo è stato soccorso dall'idroambulanza e trasportato al nosocomio locale, dove è stato stabilizzato, prima di essere trasferito all'ospedale all'angelo di Mestre, data la gravità delle fratture. Allora, adesso ci sono le 10 e qualcosa, questo è il banco, come vedete, un po' scarsetto, se possiamo dire, della pescheria Cam, perché? Perché già questa mattina alle 8 c'è stato l'assalto, e quindi se volete prendere il pesce fresco venite o altrimenti cosa potete fare? Chiamate questo numero, eccolo qua, 334-6698-158 e prenotate il pesce che volete e così avete la sicurezza di arrivare e avere il vostro prodotto fresco. Mi raccomando! Vigili del fuoco in azione, questa notte tra le 2 e le 4 del mattino, in seguito al maltempo che c'è stato, il colpo di maltempo, hanno fatto un veloce intervento a Punta Poli, dove un'imbarcazione da pesca aveva rotto gli ormeggi e quindi hanno provveduto a metterla in sicurezza, ma poi c'è stato un intervento che fortunatamente è andata molto bene, un'imbarcazione da pesca ha avuto un principio d'incendio, fortunatamente un pescatore era nel passaggio e corso con la moto ad avvisare i vigili del fuoco che sono internuti immediatamente e con prontezza hanno spento il principio d'incendio dovuto, sembra, a un corto della batteria. Ricordiamo che la zona è piena di barchini a pesca dove ovviamente ci sono il rifornimento di benzina e quindi le conseguenze avrebbero potuto essere molto 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 più gravi. Ricordiamo anche che l'imbarcazione dei vigili del fuoco, la barca, il motoscafo, è assente della cavana, la cavana è desolatamente vuota da quasi un anno e non si capisce come mai nessuno, perché l'abbiamo sottolineato diverse volte, non ci sembra che l'amministrazione o altri abbiano fatto qualcosa di particolare, ma continuiamo a non avere la barca dei pompieri di chioggia e possono capitare assolutamente degli interventi dove se non c'è la barca le conseguenze possono essere molto gravi. Speriamo che qualcuno si svegli. Ore di passione lungo le strade del territorio e segnatamente la Romea. Ieri attorno alle 19.45 uno scontro frontale tra due motociclette ha coinvolto quattro persone residenti nel Padovano, due di esse a Cittadella. L'impatto è avvenuto in zona Brondolo, nei pressi del parco commerciale Clodì. In loco sono intervenute due ambulanze del 118 con l'eli soccorso, che hanno trasportato rispettivamente tre feriti all'ospedale di Chioggia, due ricoverati con fratture, l'altro in osservazione al pronto soccorso e un terzo all'ospedale di Mestre, con fratture e una gamba. La circolazione stradale è rimasta bloccata per oltre un'ora prima di tornare alla normalità. Anche a Gambarale di Mira, verso le ore 17 di ieri, c'era stato un altro incidente piuttosto serio con l'intervento dell'elicottero del 118, mentre stamane l'ennesimo tamponamento fra tre auto all'incrocio tra l'Arzeron e la Romea si è risolto in breve tempo per quanto riguarda il traffico. L'efflusso di turisti dell'entroterra al mare di Sottomarina comunque continua copioso e in mattinata vengono segnalate diverse code da Codevigo e Santa Margherita, almeno fino a Valli e al ponte Translagunare. A Chioggia arrivano i risciò turistici. Come in decine di altre città italiane, nei giorni scorsi la giunta comunale ha approvato la delibera per la definizione del bando, volto a individuare soggetti idonei a svolgere il servizio con mezzi elettrici a pedalata assistita, con la possibilità di poter trasportare due o tre persone. Queste carrozze moderne a tre ruote, commenta il sindaco Alessandro Ferro, sono una risposta perfetta non solo per muoversi in centro lunghi percorsi preferiti dai visitatori, ma anche per valorizzare il territorio e i suoi monumenti, migliorare e diversificare l'offerta turistica, incentivare la mobilità alternativa e sostenibile. A seguito dell'approvazione del regolamento, che avverrà a breve da parte del Consiglio Comunale, verrà indetto un bando per il rilascio dell'autorizzazione dedicato ai titolari di imprese artigiane iscritti all'albo, siano essi persone fisiche o giuridiche. Il servizio con velocipedi comprenderà in totale 25 unità, numero modificabile dopo i primi tre anni sulla base dell'effettiva domanda e offerta. I risciò dovranno essere dotati di carrozzeria e copertura gialla o bianca, con lo stemma comunale e la dicitura città di Chioggia. Il servizio di trasporto ricreativo non sostituirà né integrerà i bus di linea. È autorizzato per il centro storico di Chioggia, per Sottomarina, Borgo San Giovanni e Brondolo. È fatto esplicito di vieto di percorrere o attraversare la strada Romea. Allo scopo di garantire la professionalità degli operatori e la sicurezza nello svolgimento del servizio, chi sarà chiamato ad accompagnare turisti spingendo sui pedali dovrà avere un'età di almeno 21 anni, il possesso della patente di guida in corso di validità, oltre che una specifica certificazione metica attestante l'idoneità a svolgere attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare.